ciao a tutti siamo a positano in inverno hi everybody we are in positano in winter positano è una località magnifica sia ad estate che in inverno positano is a magnificent location both in summer and in winter chiaramente in inverno si presenta in modo completamente diverso rispetto all'estate clearly in winter it presents itself in a completely different way than in summer ci ricordiamo bene ad esempio come la spiaggia di positano d'estate for example we remember well what the beach of positano is like in summer d'estate ci preoccupavamo se avremmo trovato posto in spiaggia e se c'erano ombrelloni ancora disponibili sicuramente questo problema ora non c'è in the summer we were worried if we would find a place on the beach and if there were umbrellas still available surely this problem does not exist now il nostro ombrellone era proprio là in fondo our umbrella was right over there a positano in inverno molti ristoranti sono chiusi ma comunque non hai problemi a trovare il posto che ti piace di il più per pranzare sia per un pranzo ristorante che per un pranzo più veloce e perché no anche con vista mare in positano in questo modo molti ristoranti sono chiusi in winter ma non hai problemi a trovare il posto che ti piace il meglio per il lunch sia per il lunch nel ristorante sia per il quick lunch e perché non ma anche se non 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 ma non 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 n non 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 No, 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 no Wow, che onde Proprio lì dove state Aspettiamo tranquillamente le barche Per Amalfi, Sorrento o Capri Chiaramente da qui d'inverno Le barche non partono Wow, che onde Right there where in summer We wait for boats to Amalfi, Sorrento Or Capri Clearly, boats Do not leave here in winter And there Cosa visitare a Positano d'inverno? Ottima idea è quella di visitare l'interessantissimo MAR, museo archeologico romano, dove puoi vedere anche dei resti di una straordinaria villa romana. La biglietteria del museo si trova nei pressi della chiesa, vicino alla spiaggia. Cosa visitare a Positano in winter? L'idea ottima è visitare il museo archeologico romano, dove puoi vedere parte dei resti di una villa romana straordinaria. Il museo di ticket office è locato vicino alla chiesa e alla piazza. La Caglia del Poggio La Caglia del Poggio Grazie a tutti. 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 a tutti.